C'è la ventola di Rossini, sono molto lieto che Marco Ravasini abbia lasciato gli scrandi del conservatorio dove insegna storia della musica, drammaturgia musicale e storia del teatro musicale. Sarà un incontro particolare, speciale, rispetto al solito c'è un grosso apporto anche molto affascinante peraltro da livello visivo, non vi anticipo altro. Vi ricordo che da ieri l'opera è in scena in un allestimento nuovo per l'Italia, firmato da Alessandro Talevi e con la direzione di Speranza Scapucci che debutta al Teatro Regio, un allestimento che ricontestualizza la vicenda in un set cinematografico molto interessante l'approccio e spero che vi piaccia. Passo la parola a Marco Ravasini che vi illustrerà l'impianto del suo intervento. Grazie Simone, grazie. Questa che vedete si chiama mappa mentale o concettuale ed è praticamente una grafica che rappresenta il percorso di questa conferenza. Da Rossini al centro, in alto a sinistra, ai primi, vediamo se funziona il puntatore, mica tanto, è pochino. Ecco. I primi 24 anni, cioè la vita di Rossini prima di Cenerentola dal 98 all'817, poi le prime 19 opere perché Cenerentola è la ventesima opera di Rossini e poi faremo una specie di intervallo parlando non di Rossini ma del 1817 dell'anno di Cenerentola nel mondo e poi in Italia, quindi parlando di qualche avvenimento politico, sociale, scientifico, artistico che non abbia nulla a che vedere con la Cenerentola di Rossini. La parte bassa invece della nostra mappa è relativa all'oggetto proprio del contendere, cioè Cenerentola vista nella sua genesi, è questo punto qua, la Cenerentola ossia la bontà in trionfo e poi vista più in dettaglio per quanto concerne il libretto e per quanto concerne la musica. Intanto perché il doppio Rossini? Perché devo confessare che quando iniziai a lavorare su questa presentazione non avevo un'immagine di Rossini relativa al 1817 e allora mi sono detto l'unica chance è prendere un Rossini prima e un Rossini dopo e poi pregare il gentile pubblico di fare una specie di sintesi e di immaginarsi un Rossini a metà tra l'uno e l'altro. Poi ho scoperto l'esistenza di questa immagine targata a 1817 ma non ho voluto cambiare il progetto originario del doppio Rossini perché in realtà mi sono accorto che non era semplicemente così un espediente anagrafico. Sono due Rossini diversi. Questo a sinistra è quello dipinto da Vincenzo Camuccini a Roma nel 1815, è un quadro che si trova al Museo della Scala ed è stato da me ruotato sull'asse verticale per ragioni di simmetria con l'altro dipinto che invece è esattamente com'è. L'altro è stato invece dipinto da una pittrice francese che si chiama Constance Maillère ed è del 1820, ha 5 anni di distanza, 23 anni aveva Rossini a sinistra e 28 ne ha invece a destra. Sono due persone completamente diverse. Fatte salvo ovviamente le differenze dovute al pittore, qua non stiamo parlando di fotografie ma stiamo parlando di ritratti soggettivi, il pittore ci avrà anche messo la sua, nulla mi toglie dalla testa che comunque si tratti di personaggi diversi, come se Rossini fosse una cosa prima e poi invece ne diventa un'altra. Il Rossini del 1815 che ha appena firmato il contratto con Barbaia e che è sul limitare, sulla soglia dei guadagni e della fama futura che l'aspetta è un giovane tutto preso dal suo obiettivo, ha uno sguardo fermo, fisso, che guarda anche oltre il pittore che lo ha ritratto. Il Rossini del 1820 è un uomo arrivato, è uno che è già riuscito a ottenere gran parte delle cose in cui sperava, è tranquillo, è pacioso, è sorridente e addirittura un po' più in carne se state attenti rispetto a quello precedente, perché mangia di più e guadagna di più. E per cui ho deciso di mantenere questo doppio Rossini perché Cenerentola, essendo a metà fra i due Rossini, è una tappa fondamentale di questa trasformazione. I primi 24 anni. Rossini nasce naturalmente a Pesaro, come tutti sanno, questa è la casa natale. Vedrete da comparire molte scritte, io cercherò di riassumervele il più possibile perché se stiamo a leggere non ce la facciamo più, poi è anche abbastanza noioso. È una palazzina antica, quella dove Rossini nasce, adesso è la sede nel centro storico di Pesaro e la sede ovviamente del Museo Rossignano. Qui lo vediamo, vediamo l'edificio un po' meglio. Rossini nasce da due genitori che avranno su di lui un influsso molto diverso e però al tempo stesso molto importante perché contribuiranno a mettere a fuoco due aspetti diversi della sua personalità. Il padre Giuseppe che era un musicista di fiato, suonava il corno, la trombetta, suonava in orchestra e faceva anche l'accompagnatore dei bandi comunali. Quindi quando uno andava a fare il bando, lui andava dietro e con il suono della tromba attirava la gente in piazza perché si sentisse dire che magari la tassa della spazzatura era aumentata o cose di questo tipo. La madre, la Guidarini, Anna, che era figlia di un fornaio, aveva invece un temperamento artistico e riuscì a fare dell'arte. Studiò musica e arte, recitazione e quanto bastava e alla fine riuscì a diventare una cantante d'opera buffa, si direbbe oggi di circuito di serie B, non propriamente i teatri limitati alla sua zona, quindi Romagna, Emilia, Marche. Calcò le scene fino al 1808 e si faceva conoscere con il nome da sposata, non come Anna Guidarini ma come Anna Rossini. Ora, qui li vediamo ancora. Quale può essere stato l'influsso dei due su Rossini? L'influsso del padre è un un flusso ideologico in chiama negativa però, nel senso che Rossini volle diventare, diventò tutto l'opposto di quello che il padre era stato. Il padre era stato impegnato politicamente, aveva assistito alle guerre napoleoniche, prima ancora alla rivoluzione francese ed era un simpatizzante giacobino, quindi un rivoluzionario, per cui quando ci fu la reazione e poi tornò Napoleone dopo l'Elba e poi di nuovo la vittoria definitiva della reazione dopo Waterloo, praticamente ebbe una serie di fasi alterne, commettiamo così, della sua vita e la famiglia le fece le spese. Continuamente dovevano cambiare città, spostarsi, perché lui era ricercato dalla polizia del Papa o degli austriaci e questo segnò indelebilmente la vita del piccolo Rossini, il quale evidentemente a un certo punto, se da grande elaborò il concetto che la politica era una cosa che era meglio evitare, era meglio non avere un ideale politico preciso, perché gli ideali politici purtroppo creavano una serie di problemi inennarrabili alle famiglie, lo deve e probabilmente Rossini questo all'influsso del padre però al negativo, cioè tutto quello che il padre era stato e lui non volle esserlo. Dalla madre invece, più interessante, Rossini prese ovviamente il lato artistico con questo particolare, cioè la madre era arrivata a diventare un artista con la pratica praticamente e Rossini si rinforzò nella concezione che ebbe sempre, fin da grande, fin da vecchio, che l'arte fosse soprattutto studio, pratica, esercizio e quindi artigianato, che non fosse un dono di Dio che arrivava giù improvvisamente, insomma, come dicevano i romantici, quindi un atteggiamento antiromantico che lo portò a essere il campione, diciamo, della vecchia musica in un'epoca dominata da Wagner e dei Wagneriani, cioè ancora nel secondo ottocento. Il ragazzo Rossini studia, dopo aver avuto diciamo un tirocinio con maestri privati, di aver anche fatto il cantante in una recita della madre, una recita di un'opera di Ferdinando Paer, che adesso andiamo a vedere. Questo Ferdinando Paer è uno degli operisti più importanti della generazione fra Paesiello e Rossini. Paer, Maier, Mosca, Fioravanti e poi anche Pavesi, che è un autore oggi sconosciuto che invece avrà qualche rilevanza sulla Cenerento. La Paer fu direttore del teatro di Parigi negli anni venti e quindi fu un avversario di Rossini perché voleva limitare, era chiaro che Rossini andava in Francia e gli avrebbe fatto le scarpe, per cui cercò in tutti i modi di sabotarlo. Era di origine tedesca nonostante fosse nato a Parma, Paer non è certo un cognome parmigiano. Poi studia nel neonato liceo musicale di Bologna, studia con padre Mattei, che è il successore di Giovanni Battista Martini. Ed è qui che si fa la fama di Tedeschino, che era un concetto negativo all'epoca, perché anziché studiare il contrapunto alla polifonia italiana dei secoli andati, come Mattei avrebbe voluto, si studiava tutte le partiture di Haydn e di Mozart per carpirne i segreti di strumentazione. Tedeschino, per la sua preferenza data ai compositori nordici invece dei nostrani. Scrisse anche un'opera, Demetrio e Polibio, che venne poi rappresentata da una compagnia itinerante a Roma nel 1812, nello stesso teatro che cinque anni dopo vedrà la prima di Cenerentola, cioè il Teatro Valle. Qui vedete padre Mattei, che non capì mai la scelta operistica di questo suo allievo, che avrebbe voluto invece devoto, compositore di musica da chiesa e di musica polifonica. E Rossini esordisce con la carriera, vedete uno squarcio veneziano perché Venezia è la città in cui Rossini appunto esordisce. Comincia intanto a suonare insieme con la madre e con il padre nell'orchestra e sui palcoscenici dove si esibiscono come clavicembalista accompagnatore. Questo è un ritratto molto conosciuto del ragazzo diciamo, del ragazzo Rossini. E poi riceve una scrittura da un impresario, l'impresario Cavalli, del San Moisé di Venezia, per scrivere una farsa. Vedremo poi a passando che cos'è proprio una farsa. Sarà l'inizio di una serie di cinque farsi che scriverà fino, sempre per questo impresario, sempre per il San Moisé, fino all'inizio del 1813. Compone anche nel frattempo due opere buffe, l'equivoco stravagante e la Pietra del Paragone, importante soprattutto la pietra che va in scena alla Scala di Milano, è la prima opera di Rossini a andare in scena alla Scala e ottiene un discreto successo. Nel contempo però c'è anche un fiasco, il fiasco della prima opera seria, Il Ciro in Babilonia, che va in scena a Ferrara e non è propriamente un successo. Mentre a Roma, quella compagnia itinerante che vi dicevo, allestisce il Demetrio e Polibio, cioè questa opera giovanile, peraltro Rossini lo sa ma non ci va, andrà a Roma quando sarà un po' più grande. Il teatro di cui si parla, il teatro di San Moisé è veramente, ha una storia veramente incredibile, era un piccolo teatro costruito nel Seicento, si trovava nel sestiere di Dorso Duro a Venezia, non lontano da Cafoscari, dall'Università di Venezia, con l'accesso dal canale, come vedete, porte, porticina, corte, facciata del teatro in mezzo sullo sfondo. Il problema di questo teatro è che nonostante la sua piccolezza è uno dei luoghi, è stato uno dei luoghi di maggiore importanza nella storia dell'arte teatrale mondiale, perché Monteverdi ci fece alcune prime di opere sue, poi andate perdute, perché Rossini ci fece tutte le sue cinque farse e perché nel 1896, durante il tour propagandistico del nuovo proiettore cinematografico che avevano inventato, i fratelli Lumière fecero le loro proiezioni a Venezia proprio al teatro di San Moise. Uno dice, con un pedigree del genere questo teatro dovrebbe essere ancora qui adesso ed essere adorato da tutti. No, due anni dopo il Lumière venne distrutto per far posto a un magazzino. E questa è anche una veduta dell'interno del San Moise. E arriviamo all'anno meraviglioso 1813, l'anno che rivela Rossini un po' a tutti, diciamo. Qui vedete una grande cantante dell'epoca nei panni di Tancredi, il primo grande successo di Rossini, non è la cantante che cantò Tancredi, è Giuditta Pasta in una stampa degli anni venti, quando Rossini non era più in Italia ma era ormai andato in Francia. Proprio una grande interprete ve l'ho messa per questo. Praticamente cosa succede? Succede che all'inizio dell'anno l'ultima farsa di Rossini fallisce alla Fenice, il signor Bruschino, ma poi a febbraio Tancredi, non alla Fenice, a San Moise naturalmente, poi a febbraio Tancredi trionfa alla Fenice e grazie soprattutto a questa cantante, l'Adelaide Melanotte, che vedremo adesso, questo è il frontespizio del Tancredi e questa è una stampa dell'Adelaide Melanotte che è quella che ha effettivamente portato in scena per prima, travestita da uomo, questo ruolo principale che dà il titolo all'opera. Poi improvvisamente ha l'italiana in Algeria. Nel maggio, nuovo successo veneziano di Rossini, italiana in Algeria, questa volta al San Benedetto, un ennesimo teatro veneziano, grandissimo successo, grandissimo successo per la protagonista Marietta Marcolini, che è una cantante con cui Rossini ha anche una relazione extra artistica, molto più anziana di lui, la quale aveva già cantato tutte le opere buffe e anche l'opera seria precedente di Rossini, ma non aveva mai avuto questo successo. Il successo dell'italiana è assolutamente travolgente. Qui la vediamo in un ritratto, non era propriamente bellissimissima, come potete vedere, ritratto che è stato da me messo sulla sommità della stampa. E poi vedete l'inconfondibile profilo della scala, perché alla fine del 1813 Rossini torna per la seconda volta alla scala per rappresentare un'opera seria, Aureliano in Palmira, dove c'è l'unico ruolo per cantante evirato di tutta la sua carriera. Anche perché di lì a breve gli evirati saranno banditi dalle scene e quindi Rossini colse l'occasione per scrivere per Giovanni Battista Velluti, ma poi in questa occasione non si dette più. Pare che l'esibizione di Velluti fosse stata così arbitraria, per le libere scelte improvvisative che Velluti si era preso sulla melodia delle arie rossiniane, che Rossini avrebbe tratto proprio da questo la convinzione che bisognava cominciare a scrivere le fioriture in proprio e non bisognava più lasciarle all'arbitrio dei cantanti. Non è chiaro se questo aneddoto sia vero completamente o se sia una leggenda, però ve la riporto per quella che è. Dopo comunque questo 1813 Rossini diventa un fenomeno quantomeno in Italia settentrionale, ma la sua fama comincia anche a esorbitare verso sud. Qui vedete un ritratto del Velluti. e abbiamo il 14 che è una parentesi interlocutoria. Rossini torna alla scala per quello che sembrerebbe dover essere un bis dell'italiana, anzi viene presentato proprio come un bis dell'italiana e il pubblico questo si aspetta. Un'opera come l'italiana, un seguito dell'italiana, invece il turco in Italia, che abbiamo visto l'anno passato proprio in questo teatro, è un'opera completamente diversa. Perché è un'opera più sottile, più intellettuale, dove nel libretto di Felice Romani, il più interessante librettista emergente di questo periodo, si immagina addirittura che sia in scena il librettista stesso della storia e che la storia che si vede pian piano dipanarsi sulla scena sia l'effetto della scrittura del libretto che lui sta facendo nello stesso momento. Una cosa molto sottile, che magari nel ventesimo secolo avrebbe avuto più successo, ma all'inizio dell'ottocento non è così. Per cui si rimpiange l'italiana e il successo del turco è un successo molto 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 parziale. Nonostante un cast sensazionale che prevedeva un basso come Filippo Galli, un tenore come Giovanni Davide e un direttore d'orchestra come Alessandro Rolla, che era all'epoca uno dei direttori d'orchestra della Scala e che è famoso anche perché fece parte della commissione giudicante che dovete giudicare vent'anni dopo circa l'ammissione al Conservatorio di Milano di Giuseppe Verdi. Sappiamo adesso che Rolla fu l'unico a esprimere parere positivo, cioè secondo lui Verdi poteva entrare in conservatorio ma era in minoranza, come ricorderete la commissione d'esame e d'ammissione decretò invece che Verdi non poteva essere ammesso. Adesso vi vediamo un attimo, vediamo il giovane Romani che ostenta i suoi mustacchi, vediamo Filippo Galli, grandissimo, basso e rossignano, vediamo David anche questo tenore era molto noto a quell'epoca e vediamo anche un ritratto di Alessandro Rolla il direttore d'orchestra del turco in Italia. E poi vedete la facciata della Fenice perché alla fine del XIV nuovo tentativo di opera seria di Rossini, Sigismondo e ultima presenza della Marcolini in una partitura. Non è un successo e alla fine del Sigismondo i due si lasceranno anche perché Rossini ha in tasca ormai un contratto, il contratto della vita, che lo porterà a orbitare lontano dal nord Italia e orientare le sue scelte artistiche verso il centro sud, verso i teatri del centro sud della penisola. E infatti Rossini va a Napoli. Va a Napoli perché l'impresario Barbaia, che ha in mano tutti i teatri partenopei, gli offre un contratto da capogiro praticamente. Ho voluto riportarlo. 12.000 franchi, che era una cifra notevole, ogni anno per sette anni più una percentuale degli incassi delle case da gioco, cioè i casinò, di proprietà di Barbaia che agivano sia al teatro San Carlo sia al teatro del fondo. Rossini disse ma in fin dei conti se la gente viene a giocare nei tuoi casinò è perché è venuta a vedere le mie opere, quindi voglio una percentuale. Tira e molla, tira e molla, alla fine riuscì ad avere la meglio su Barbaia e gli staccò questo contratto incredibile. In cambio doveva scrivere due opere nuove ogni anno e occuparsi dell'allestimento musicale, cioè dirigerle praticamente, sostanzialmente. Doveva scrivere Rossini a questo punto per la Scuderia, il Parco Cantanti di Barbaia, Nozari, un tenore, il famoso tenore spagnolo Manuel Garcia, padre del più famoso trattatista di canto dell'Ottocento, Manuel Garcia Junior, e padre soprattutto di Maria sposata Malibran, una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi. E terza, diciamo terzo elemento del Parco Cantanti, Isabella Colbran, contralto, che era all'epoca l'amante di Barbaia e che diventerà poi la moglie di Rossini. Rossini sposerà nel 1822. Qui vedete una carellata dei personaggi di cui abbiamo parlato. Raro ritratto di Barbaia, di lui si sa veramente poco, si racconta molto, ma di reale o anche, diciamo, lasciti pittorici eccetera, ce ne sono molti pochi. Nozari, Garcia e la Colbran con la lira in mano, tipica delle raffigurazioni dell'epoca. Ma ci sono anche i cattivi in questa storia, non è tutta una storia positiva. Cioè c'è un ambiente musicale napoletano che rema contro Rossini, perché ha capito che Rossini è un cavallo di razza e che se arriva a Napoli e si impianta a Napoli non ce n'è più per nessuno. Soprattutto Zingarelli, che era un operista, poi sarà direttore del Conservatorio di Napoli, anche maestro di Bellini, e Giovanni Paesiello ai suoi ultimi anni, morirà di lì a non molto, si adoperano per sabotare il più possibile il successo di Rossini a Napoli. Qui li vedete, eh? Zingarelli a sinistra, Paesiello con la gorgera da anziano a destra. Si somigliano anche, si vede che la cattiveria alla fine fa sembrare un po' tutti uguali. Nell'ottobre del 15, prima, Napoletana di Rossini, Elisabetta, regina d'Inghilterra, di cui si racconta appunto che abbia segnato la fine dell'opera serie settecentesca, sia per il bando delle fioriture arbitrarie dei cantanti, questo lo si diceva prima, e anche perché cancella ogni residuo di recitativo secco, quindi accompagnato diciamo dal cembolo, che ancora qua e là nelle opere serie si poteva trovare. Ma Rossini tiene il piede in due scarpe. Non ha detto a Barbaia, qui c'è questa spiegazione, che è in rapporto anche con altri impresari in un'altra città. Sfrutta il fatto che il contratto che Barbaia gli ha fatto firmare non è un contratto in esclusiva, non si parla di esclusiva da nessuna parte, e lui ne approfitta e va a Roma e si offre agli impresari romani. Soprattutto due, Pietro Cartoni, l'impresario del teatro Valle, dove Cenerentola verrà rappresentata, Francesco Sforza Cesarini, del teatro Argentina. Naturalmente questo non sarà senza conseguenze. Rossini va a Roma contro il parere di Barbaia, che pensava invece in cuor suo di averla, questa esclusiva, inaugura la stagione di Carnevale del Valle il 26 dicembre del 15, con un'opera semiseria, Torvaldo e d'Orlisca, e poi soprattutto nel febbraio del 1816 con lo stesso librettista di Torvaldo, cioè Cesare Sterbini, rappresenta il barbiere di Siviglia. Lo stesso testo, non lo stesso, comunque lo stesso argomento, già musicato in precedenza da Paesiello. C'è un grande fiasco, insieme con quello della Traviata, forse il più grande fiasco registrato in rapporto al valore assoluto dell'opera. si fa attribuzione di questo fiasco alla clac paesiegliana, i sostenitori di Paesiello che in sala avevano sabotato il più possibile questa recita. Nel film di Monicelli, Rossini e Rossini, c'è una sequenza famosa che ricostruisce appunto la prima all'Argentina del barbiere di Siviglia con Castellito che interpreta la parte del giovane Rossini e lì si immagina invece che sia barbaia ad avere sabotato questa prima, non so quali sia il fondamento storico, filologico di questa affermazione, che sia barbaia ad avere sabotato la prima pagando una clac e pagando tutta una serie di incidenti tra virgolette che avvengono nel corso di questa rappresentazione fino a un certo punto, alla fine diciamo della rappresentazione, a provocare addirittura la sua interruzione, cosa peraltro non documentata che il barbiere non sia stato eseguito fino in fondo, e la fuga addirittura di Rossini davanti al pubblico inferocito con cui si era beccato chiaramente. Vi faccio vedere un pezzo, solo un pezzo, da questo film di Monicelli, si comincia con un litigio fra Castellito e Giorgio Gaber che fu un grande barbaia, fu lo dato da tutta la critica per come aveva rappresentato questo impresario senza scadere nel pittoresco, facendolo invece un personaggio intelligente, furbo, all'altezza della situazione. C'è questo scazzo per problemi chiaramente di esclusiva che ho detto prima e poi si vede la prima disastrosa con tutta una serie di incidenti provocati naturalmente, una clac che monta praticamente questa reazione contraria del pubblico e si immagina che barbaia dalla strada retrostante il teatro in carrozza mentre si sta mangiando una cofana di spaghetti al sugo che gli hanno portato cotte al punto giusto, coordini tutta quanta questa operazione. Ne vedremo soltanto alcune sequenze. La scena termina con barbaia che va in teatro per accertarsi della riuscita del suo sabotaggio ma poi vede alcuni scampoli dell'opera e dice cavolo ma questa opera qui è bellissima, è un capolavoro. Allora cerca vanamente di trattenere il meccanismo, di fermare il meccanismo che lui stesso ha messo in movimento con nessun risultato perché ormai la clac contraria va per conto suo e lui non riesce più, finisce anche per litigare, viene alle mani eccetera eccetera. Si potrebbe restare molto bello ma poi c'è Garzia che va in scena con la chitarra che naturalmente ha le corde che sono state tagliate per cui gli saltano per aria mentre finge di pizzicarle, poi arriva un gatto in scena, viene liberato un gatto in scena, sacchetti che scoppiano eccetera eccetera e alla fine c'è una rissa tra Rossini e la clac contraria e lui scappa in seguito dalla clac praticamente fino a casa sua e riesce a barricarsi dentro e quindi la fa franca. Prima della fine del 16 però Rossini risponde praticamente al contratto barbaia scrivendo due opere, La Gazzetta, un'opera buffa che va in scena al teatro dei Fiorentini e poi all'inizio di dicembre L'Otello, opera seria che va in scena al teatro del fondo. Non si parla di San Carlo perché San Carlo è momentaneamente inagibile e causa incendio. La Gazzetta ha meno successo dell'Otello, anzi non ha quasi successo e come spesso avveniva Rossini pensa di fare fruttare una parte della musica della Gazzetta in una prospettiva operistica futura che ci riguarda direttamente naturalmente. Qui vedete una stampa dell'Otello, l'Africano di Venezia e abbiamo praticamente concluso questa escursione fra i Rossini prima di Cenerentola biograficamente perché dopo l'Otello l'opera successiva al Valle di Roma nel gennaio del 17 e appunto Cenerentola. Torniamo, adesso parliamo un attimo di queste 19 opere. Intanto un po' di statistiche, le facciamo di corso, le statistiche non entusiasmano nessuno. Ci serve per affrontare il problema della produttività rossiniana, cioè della folle capacità di Rossini di rispondere a tutte le commissioni possibili facendo praticamente incetta di tutte le commissioni operistiche possibili lasciando quasi senza lavoro gli altri compositori. Non è completamente vero questo. Qui vedete un grafico che illustra la concentrazione di opere fra il 1810 quando esordisce e tutto il 1816, cioè fino a Cenerentola. Vedete che c'è un picco nel 1812 quando viene anche ripresa la sua opera giovanile al Valle di Roma e che comunque a parte i primi due anni la produzione non scende mai al di sotto delle due opere all'anno. In questo grafica torta vedete invece la percentuale fra i tipi di opere che Rossini ha prodotto. Vedete che nonostante l'insieme delle farse delle opere buffe superi il 50%, 26 più 32, le opere serie sono molte, 37%. E poi anche un'opera semiserie è il Torvaldo di Roma che conta per un 5%. Se dividiamo le opere per teatro scopriamo che Venezia la fa da padrone con la bellezza di otto opere. Ci sono ovviamente le cinque farse di mezzo, le cinque farse del San Moise. Milano è rappresentato dalla Scala con tre opere e Napoli sempre con tre opere ma in tre diversi teatri. Roma ne ha pure tre in due teatri. E poi ci sono le opere, le prime due opere buffe di Rossini andate in scena a Bologna e a Ferrara. E qui invece è una distribuzione delle opere per librettista e sconsolante. Guardate quella sfilza di uno a destra. Vuol dire che la maggior parte di opere di Rossini sono state scritte da librettisti diversi. Che non esiste un librettista rossiniano come esisterà magari poi nel seguito della storia dell'opera. Un librettista di fiducia. A parte Foppa che sigla tre dei libretti delle farse è un'opera seria, il Sigismondo è suo. Poi abbiamo Gaetano Rossi, Felice Romani, Cesare Sterbini che fa sia il Torvaldo e Dorlisca che il barbiere di Siviglia. Due opere, due libretti a testa e poi un'infinita sfilza di librettisti che collaborano una tantum col compositore. Per cui facendo praticamente la tara scopriamo tutte le cose che io vi ho già detto praticamente. Con l'aggiunta che Rossini si rivela praticamente abbastanza indifferente al problema del libretto. Si sarebbe vantato più avanti che era in grado di mettere in musica anche la lista della lavandaia. Quindi non era il libretto la cosa principale per lui. E quindi non era pensabile che a differenza degli iperisti della generazione successiva lui potesse attaccarsi, diciamo, attaccare le sue fortune al carro di un librettista fisso. Come avverrà con Bellini e Romani, Dorizzetti e Camarano e naturalmente Verdi Piave. Opere e Gendere è un titolo provocatorio, dato i tempi, che vuole parlare brevemente dei generi praticati, insomma, di opera all'epoca. Intanto nel Settecento c'era stata la distinzione tra buffa e seria. La distinzione era di natura di argomento, naturalmente, ma era anche di musiche. Perché i pezzi musicali che si sentivano in un'opera seria non erano quelli che si sentivano in un'opera buffa. Erano molto diversi. C'erano tante arie nelle opere serie, tanti pezzi di insieme concertati, eccetera, nelle opere buffe. Era anche diverso il target, come potete vedere. L'opera seria andavano a vederla gli aristocratici, l'opera buffa andava a vedere la borghesia. Poi queste differenze in parte si attenuarono. Alla fine del Settecento le opere sono diventate abbastanza simili. Hanno gli stessi cantanti e hanno le stesse forme ormai. Non c'è più una distinzione di forme. Solo l'argomento, la trama è differente. Solo la trama. Nasce anche una forma mista fra la serie e la buffa. Dove ci sono personaggi seri e personaggi buffi che coabitano allegramente. Si chiama melodramma giocoso. Nasce alla fine del Settecento e il più grande esempio, ovviamente, di questo tipo di melodramma è il Don Giovanni Mozartiano. Dal melodramma giocoso si originarà naturalmente l'opera semiseria dell'Ottocento. Però è vero che molte opere semiserie dell'Ottocento riportano ancora sul libretto la dizione melodramma giocoso che è la stessa dizione del Don Giovanni e delle opere di fine Settecento. Qui vedete dei costumi tipici. Guardate come un tipico costume da opera seria è quanto di più filologicamente improbabile ci sia. A che epoca fa riferimento questo costume? È un generico costume antico che vale un po' per tutto. Un po' da antico romano, un po' rinascimentale, tipo le maniche così a sboffo non sono propriamente dell'abbigliamento degli antichi romani. È un grande potpourri di cose rimasticate del passato che servono a dare un'idea di antichità. Ma non c'è nessuno scrupolo filologico. Guardate invece negli abiti per la finta semplice di Mozart come invece i costumi riflettano precisamente i costumi dell'epoca. Qui c'è la ricerca filologica nell'opera buffa, nell'opera seria invece no. Questo è un video, purtroppo bianco su grigio non si vede tanto. Questa è la sinfonia di Torvaldo e Dorlisca. Sotto c'è l'ambito di limite storico 1700. Tutti queste forme, opera seria, melodramma giocosa, opera buffa nascono nel 1700 ma vanno a finire anche nel 1800. L'opera seria rimane tale. Il melodramma giocoso diventa opera semiseria. L'opera buffa resta tale ma dal suo fianco si stacca una costola azzurrina, la costola della farsa che nasce dall'interno dell'opera buffa. Mentre l'opera seria poi darà vita al melodramma romantico. E la bacchetta magica, qui si vuole la magia per cercare di capire come Rossini riuscisse appunto a produrre tutte queste opere. Ci avevi sui trucchi praticamente. Sentiamo questo. Questo è un confronto tra quello che ha prodotto prima della Cenerentola e quello che ha prodotto dopo Cenerentola. Questa è la cabaletta di Tancredi naturalmente no? Prima di Cenerentola 18 opere, poi c'è Cenerentola, dopo Cenerentola, sentite la cabaletta di Arsace in semiramide, 14 opere, un po' meno ma non tanto di meno. Che fanno un totale di 33, di 33 opere prodotte da Rossini in Italia prima di andare in Francia, con una percentuale superiore alle due opere all'anno. Adesso invece confrontiamo Rossini con la produttività degli altri autori, più o meno della stessa epoca o poco più tardi. Naturalmente il primo è lui ed è stata riportata la cifra che abbiamo già visto. Questa è la cabaletta del barbiere di Rossini. Mercadante nello stesso periodo di Rossini, abbiamo preso per forza i 14 anni, produsse le stesse opere di Rossini. Questa è la cabaletta di Alfonso da Donna Caritea, un'opera che venne eseguita alla finiscia a metà degli anni 20. Diciamo terzo in classifica Donizetti, che nello stesso arco di tempo, 14 anni, produsse un po' meno, 31 opere contro 33. Questo è il giovane Donizetti, singolarmente privo di baffie. E poi viene Pacini, che se avesse saputo scrivere la musica sarebbe stato un ottimo operista, come diceva Rossini. Di soli tre anni più giovane di Pacini. Questa è la cabaletta degli ultimi giorni di Pompei, della protagonista femminile. E poi ci sono i cattivi, cioè quelli che hanno prodotto poco. Questo è quello che ha prodotto meno di tutti. Bellini. Solo nove opere in dieci anni. Poi è morto, anche volendo non ha potuto produrre più. È l'unico che stia sotto la media di un'opera all'anno. E poi arriva lui, naturalmente. Prendendo il 53 come ultimo degli anni di Galera di Verdi, l'anno della traviata e del trovatore, vedete che la media intanto si sale a 15 anni e la media, sono 19 opere, è comunque inferiore a due opere all'anno. Quindi Mercadante e Rossini sono al top della produzione. Donizzetti e Pacini in poco sotto, mentre c'è un bel salto con Bellini e Verdi che scrivendo dopo non hanno più, diciamo così, non ci sono più le condizioni di mercato che avevano incontrato in precedenza. Cioè, praticamente, Rossini come fa a scrivere? Intanto ricicla. Ricicla e cita se stesso. Però non sono autocitazioni. Le autocitazioni le fanno i compositori viennesi, come Beethoven, Mozart, Schubert, che fanno sentire della loro musica in altra loro musica. e naturalmente mettono in conto che il pubblico la riconosca, altrimenti che autocitazione è. È tutto in un quadro di glorificazione personale, perché sono considerati dei grandi musicisti. In Italia, dove i musicisti sono ancora degli artigiani e sono ancora valutati per il numero di opere che tirano fuori, non esiste questo tipo di concetto. Per cui Rossini prende da sé, si autoimpresta, li chiama autoimpresti, queste autocitazioni, e cura bene che non siano assolutamente riconosciuti, riconoscibili. Questo è fondamentale. Per esempio, le sinfonie possono cambiare in Rossini tranquillamente da un'opera all'altra. Qual è l'accorgimento che Rossini usa per evitare che questi autoimpresti vengano sgamati, vengano colti. Le suona, le sposta in opere che vanno in scena in teatri diversi, possibilmente in altri stati. Non dimentichiamoci che l'Italia, a quell'epoca, ha un sacco di stati e che questi stati sono tanti confini da superare. È difficile che uno che ha visto, non so, Laureliano in Palmira, a Milano, poi possa vedere l'Elisabetta Regina d'Inghilterra a Napoli o vedere il Barbieri di Siviglia a Roma, come oggi potrebbe fare al limite. Allora era difficile. E infatti qui, in questa animazione, si vede il percorso delle sinfonie. La sonorizzazione è la sinfonia che ha compiuto il percorso più lungo di tutti. L'abbiamo già sentita prima. Per esempio, una sinfonia in mi bemolle, scritta da Rossini a Bologna, diventa la sinfonia della cambiata di matrimonio passa da Bologna a Venezia. L'inganno felice passa da Venezia al Ciro in Babilonia a Ferrara. La pieza del Paragone passa da Milano a Venezia e diventa la sinfonia del Tancredi. E poi, l'Aureliano in Palmira passa addirittura da Milano a Napoli, Elisabetta Regina d'Inghilterra, e poi di nuovo rimbalza a Roma il Barbieri di Siviglia. E ultima, la sinfonia della Gazzetta passa da Napoli a Roma e diventa la sinfonia di Ceneretto. Ci sono poi altri imprestiti parziali, ma adesso non è un caso di indurre nella filologia. E poi il secondo trucco sono i negri. Guardate l'espressione brutale, ma era quella usata da Rossini, il quale si vantava di avere degli schiavi collaboratori, quindi dei negri, tra virgolette, che lavoravano per lui. In ogni piazza operistica c'era un compositore di riferimento su cui faceva conto per affibbiargli una parte del carico compositivo delle nuove opere. Gli faceva scrivere di solito i recitativi, ma a volte, quando c'erano un po' di cantanti comprimari e lui non aveva tempo di scrivere le arie per i cantanti secondari, gli faceva scrivere anche questo. Vedremo, torneremo su questo concetto. E qui abbiamo appunto le celebrate sinfonie. Qui c'era una videata interessante, ma purtroppo troppo lunga che ho dovuto tagliare, però poi vi devo dire alcune cose alla fine. Ci accontentiamo di ricordare che le sinfonie servivano soprattutto per richiamare l'attenzione del pubblico, già sin dal settecento, e vediamo alcuni di questi frontespizzi. Questa non è una partitura, è un canto e piano della Pietra di Paragone in un'edizione francese di inizio ottocento, quindi successiva, diciamo, all'andata in scena a Milano. Qui vedete invece il frontespizzo del manoscritto dell'Aureliano in Palmira e quell'attacco è lo stesso attacco della sinfonia del barbiere di Siviglia. È lui, perché è la stessa sinfonia. E infine vediamo l'attacco della Gazzetta, questo ancora è il manoscritto, ed è lo stesso attacco della sinfonia di Cenerentola, perché è la stessa sinfonia. Praticamente come funziona una sinfonia di Rossini? Non vedete il video, ma si può dire. Ecco, c'è un'introduzione lenta, c'è un'esposizione di sonata, in cui ci sono due temi separati da una modulazione alla dominante, e poi non c'è lo sviluppo, come normalmente in una forma di sonata, in un allegro di sonata, ma c'è subito la ripresa, cioè riascoltiamo i due temi, questa volta nella stessa tonalità, quindi senza più il ponte modulante. La cosa però più interessante sono le code, come si conclude l'esposizione e come si conclude la ripresa, con lunghe e stese code in crescendo, che sono quello che la gente aspetta di più nelle sinfonie rossignane, le cose che piacciono di più. E qui abbiamo anche un rapido raffronto tra le forme nelle opere di Rossini prima di Cenerentola, ma anche con Cenerentola e anche dopo. Cioè il nome con cui compaiono praticamente sullo spartito è quello di sinistra, forse è finale dato, magari non compare proprio così, la tipologia dell'aria, il numero dei movimenti, le arie hanno di solito due movimenti, ma possono eccezionalmente averne anche tre, i duetti possono avere anche tre, il finale dato ha tre movimenti e il primo movimento è diviso in un sacco di sezioni. Il secondo movimento è il famoso concertato e il movimento conclusivo è la famosa stretta. e sia il segmento finale delle arie che il segmento finale dei duetti si chiama cabaletta, è l'aria più attesa dell'opera perché è quella in cui ci si aspetta che i cantanti diano il massimo sfogo alla loro bravura, alla loro bravura tecnica. nei finali d'atto ci sono anche l'equivalente delle cabalette, cioè ci sono dei movimenti finali in tempo rapido, si chiamano strette, ma è come se fossero delle cabalette collettive, cioè in cui cantano praticamente tutti quanti. e siamo arrivati ancora a Rossini, vediamo un attimo il 1817 nel mondo. Questa è veramente una carellata molto veloce, nel mondo prima e poi in Italia. Intanto la grande carestia, una cosa che non si sa. Cosa succede? Questo succede. Nel 1815 c'è la più grande e rovinosa eruzione vulcanica della storia dell'umanità, cioè da quando esiste la storia dell'uomo. Il vulcano Tambora in indonesia orientale erutta distruggendo praticamente una parte dell'isola. Ci furono credo calcolati 70-80 mila morti solo sull'isola, per questa esplose praticamente. Si ridusse di un terzo delle sue dimensioni. E' una specie di Vesuvio moltiplicato 5 o 6, il Tambora, aveva la forma anche del Vesuvio. Questo provoca un cambiamento climatico. Praticamente proietta una quantità enorme di detriti in atmosfera, ci vorranno tre anni perché questi detriti se ne vadano e questi sono i tre anni più freddi degli ultimi non so quanti secoli che noi abbiamo contato. Ma non è solo un problema di temperatura, è anche un problema di meteorologia. Napoleone a Waterloo, tre mesi dopo il Tambora, non può schierare l'artiglieria in campo perché continua a piovere e c'è fango dappertutto. Non può usare il tiro di rimbalzo che usava sempre, che era la forza dell'esercito francese. E perde Waterloo e cambia la storia, per dirne. Ma soprattutto non nascono più le piante, non producono più frutti. Gli effetti si vedono nell'inverno successivo, 1816-1817. Terribile. Per cui carestia, vittime fra i poveri, soprattutto contadini e poveri in genere, e recrudescenza di malattie, come il vaiolo, il tifo petechiale, che tornano fuori e fanno strage praticamente. Sono inverni freddissimi. Quando si racconta l'aneddoto del signor Bruschino, nel 1813 di Rossini, perché in realtà le eruzioni vulcani che erano cominciate nel 1810, il Tambora fu soltanto la più grande di tutte. Quando si racconta l'aneddoto di lui che sta rintanato nel letto sotto 12 coperte e non vuole mettere fuori neanche il naso per cui scrive la musica a letto, si cita per citare la pigrizia rossiniana, ma in realtà probabilmente è l'effetto delle temperature, nel senso che faceva un freddo terribile. Qui vedete il Tambora, vedete le dimensioni del vulcano con la scala in basso a sinistra, purtroppo non si vede bene la mappa dell'Indonesia, in alto comunque sta verso la Nuova Guinea, dalla parte opposta del Tracatoa, che fu la seconda più grande eruzione della storia alla fine dell'Ottocento, battuta solo da questa qui. E qui vedete la concentrazione del freddo, nel 1814, 15, 16, soprattutto in Francia, in Germania, nell'Italia settentrionale e soprattutto il Piemonte. Quindi noi abbiamo patito 3-4 gradi di temperature in meno in tutte le stagioni, ma soprattutto la meteorologia sconvolta, neve in luglio, neve in agosto, cose mai viste prima, assolutamente. E qui invece abbiamo la politica, soprattutto americana. Le cose principali succedono in America. In America viene eletto il presidente Moreau, quello della famosa dottrina Moreau, per cui gli Stati Uniti non devono preoccuparsi delle cose europee, ma devono preoccuparsi soprattutto delle cose americane, per cui devono considerare l'America come un loro particolare dominio. Qui vediamo il presidente Moreau in una stampa dell'epoca. E in Sud America ci sono i libertadores, quindi tutti questi generali come Simon Bolivar o Osède San Martin, che liberano dalla dominazione spagnola gli Stati sudamericani. Osède San Martin nel 1817 sconfigge gli spagnoli e occupa Santiago del Cile. Qui vedete una mappa con tutti i vari virreinatos, che erano tutti viceregni spagnoli praticamente, e capitanie anche, virreinati e capitanie, e vedete anche qua un quadro che rappresenta San Martin, però la bandiera non è quella cilena, è quella argentina, perché prima di liberare il Cile aveva liberato l'Argentina. Un po' di arte e di musica. Nel 1817 c'è un grande pittore vedutista inglese che realizza una serie di paesaggi italiani fra cui l'eruzione del Vesuvio, erutta anche il Vesuvio naturalmente in quel periodo lì, alla fine del 17. Qui vedete un autoritratto del pittore e qui è l'eruzione del Vesuvio dipinta da lui. Ma dall'altra parte del mondo c'è un pittore giapponese, Katsushika Okusai, che dipinge le cento vedute del Monte Fuji, pure questo è un vulcano, in uno stile tutto suo. Questo è un autoritratto del pittore giapponese e questa è la grande onda di Kanagawa, dove in questo caso il Fuji è soltanto uno spunto in lontananza, però c'è in tutti i quadri. Qui è in lontananza, non si capisce se le gocce sono gocce d'acqua o se è la neve che sta cadendo in prospettiva un po' falsata sul vulcano. E infine abbiamo di musicale la pubblicazione del Grandus at Parnassum di Clementi, 1817, grande trattato di didattica e di studio del pianoforte che tutti i pianisti ben conoscono. Nelle scienze umane il filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel pubblica l'Enciclopedia delle scienze filosofiche, cioè praticamente il compendio delle sue teorie da cui deriveranno gran parte delle idee dell'Ottocento, idealismo, marxismo, eccetera. In Inghilterra David Riccardo pubblicherà i principi dell'economia politica, un altro testo fondamentale nella storia dell'economia classica, mentre abbiamo anche il primo scritto diciamo socialista, tra virgolette, l'industria di Henri de Saint-Simon e Auguste Comte che è uno dei primi testi del socialismo utopista. Qui vedete un ritratto di Saint-Simon, nasutissimo Saint-Simon. E poi abbiamo le scienze naturali e la tecnologia. Questo è uno sconosciuto, non lo spero neanche che esistesse, Friedrich Strohmeyer che scopre l'esistenza del cadmio senza quale non sarebbero state le batterie al nichel carmio che sono state per molto tempo le batterie più utilizzate, insomma nei gadget elettronici e compagnia bella. Più interessante è questo signore, il barone Carl Dreis di Mannheim, che preoccupato dalla moria di animali nel dicembre del 1816, molti li avevano anche macellati per mangiarli, cavalli, buoi, animali tradizionalmente da tiro, si interroga sul futuro dell'umanità senza più la trazione animale e allora decide di inventare un mezzo che consenta agli uomini di spostarsi senza più un bue o un cavallo che ti tiri il mezzo suddetto. Lo chiama love machine, cioè macchina da camminare, macchina da corsa, come volete tradurlo. In Inghilterra si chiama dandy horse, il cavallo per dandy, perché saranno soprattutto i dandy a farsi vedere in sella a questa invenzione. Di cosa sto parlando? Sto parlando della Dreis Ina, cioè l'antenata della bicicletta. Non c'è ancora il pedale, però di fatto non c'è più bisogno dell'animale che ti porti avanti. Il barone Dreis. Ultima tappa, le morti illustri. Jane Austen, la famosa romanziera inglese, autrice di Orgoglio e Pregiudizio, che muore a poco più di 40 anni in circostanze misteriose nel 1817, forse una malattia contratta dal bestiame che teneva in campagna. E poi un'altra morte, però il personaggio è molto più anziano, e il maresciallo generale ingegnere Tadeusz Kosciuszko, l'eroe dell'indipendenza polacca contro gli zar di Russia, e anche un eroe della guerra di indipendenza americana contro gli inglesi. Qui è chiaramente un ritratto giovanile, non aveva certo 70 anni. Questo è un ritratto degli anni 80, subito dopo la guerra di indipendenza. Nel mondo, nel 17, in Italia. In Italia abbiamo la politica innanzitutto, la divisione degli stati usciti dal congresso di Vienna. Sono gli stessi stati e staterelli che tutti più o meno ci ricordiamo, che andranno avanti così fino alla seconda guerra di indipendenza, senza grossi cambiamenti, fino al 59. Li vediamo in una mappa, tra l'altro vedete Königreich, Weider, Sicilian, è una mappa austriaca. Perché austriaca? Perché gli austriaci considerano l'Italia praticamente un dominio personale. Quindi ho scelto apposta questa mappa qua. E poi abbiamo il Papa di Roma, perché è a Roma che Cenerentola si fa. Il Papa Pio VII, che sta tornato in sella dopo il congresso di Vienna, sta cercando di arginare la carestia che nel Lazio è particolarmente forte, con tutta una serie di provvedimenti economici e amministrativi per aggirare il problema. E poi naturalmente abbiamo anche la musica. due musicisti più giovani di Rossini, che rappresentano opere del 1817. Pacini, che rappresenta l'Adelaide Comincio al teatro dell'impresario Re di Milano, è un piccolo teatro, e il giovane Donizetti, che vedremo forse dopo, che rappresenta, che lavora su queste due opere, l'Olimpia dell'Ira d'Achille, ma non le completa, perché si tratta di soggetti classici e probabilmente Donizetti ha già capito che i soggetti classici nell'epoca del romanticismo incipiente non andranno molto avanti. Ritratto giovanile di Donizetti senza il baffo abituale, con cui siamo abituati a vederlo. Ultimo tributo alla letteratura, la discussione sulla liceità o meno di adottare le parole nuove all'interno della lingua, e questa si deve a Vincenzo Monti, il grande poeta, che ingaggia questa discussione con gli accademici della Crusca e sostiene la tesi che la lingua debba e possa rinnovarsi e accettare parole nuove, mentre i cruscanti naturalmente non erano d'accordo. Vincenzo Monti. Questo in Italia, questo nel 17 e andiamo alla genesi di Cenerentola. Intanto l'opera. Rossini è a Napoli per l'hotello. Quando arriva in netto ritardo nel dicembre avanzato del 1816 a Roma, il suo progetto operistico per una semiserie con un libretto scritto da Gaetano Rossi, forse si chiamava Laurina, forse si chiamava Ninetta, comunque alla corte, non è incagliato, è incagliato nella censura. E poi è chiaro che non può inaugurare la stagione il 26 dicembre, perché al 10 dicembre, senza aver scritto nulla, è a Roma, cioè più o meno in quella data lì. E allora c'è un summit d'urgenza, l'impresario Cartoni del Valle prende atto che non è possibile esordire quella nuova opera di Rossini che viene posposta a fine gennaio, convoca Rossini, convoca Jacopo Ferretti, che era il suo librettista di fiducia, non di Rossini, dell'impresario. Jacopo Ferretti che aveva un po', diciamo così, il dente avvelenato con Rossini perché era stato escluso nella scelta del librettista del barbiere l'anno prima. Rossini aveva preferito Sterbini al posto di Ferretti e Ferretti se l'era legato al dito, naturalmente. Sembra che in questa riunione Ferretti abbia proposto qualcosa come almeno 20 possibili soggetti a Rossini Cendrion, la storia di Cenerentola. Si sfida la vicenda, io ti sfido a scrivere musica per una storia così strampalata, io ti sfido a scrivere il libretto per una storia così strampalata. Esisteva però un precedente, un'opera sullo stesso argomento tratta sempre dalla fiaba di Cendrion, o per meglio dire tratta da un'opera francese che c'era già stata e comunque vedremo a passando, era già stata rappresentata alla scala nel 1814, prima del Turco in Italia di Rossini, da un compositore amico di Rossini che si chiama Stefano Pavesi. Ferretti finisce il libretto a metà gennaio, ma praticamente non è che Rossini stia ad aspettare metà gennaio, perché gli passa i fogli in tempo reale, cioè finisce e glielo dà e Rossini lo mette in musica. Poi Rossini, come usava a fare, ha già subaffittato una parte della partitura a Il Negro di turno, che in questo caso è Luca Agolini, detto Lo Zoppo, un compositore di chiesa che si animava di tanto in tanto scrivendo per l'opera, per i teatri romani, quando capitava a un Rossini che gli facesse la commissione. Agolini scriverà i recitativi e scriverà anche i numeri secondari destinati ai cantanti comprimari. In questa maniera, un po' subaffittando, un po' scrivendo in tempo reale man mano che arrivano i fogli del testo pronto, la cenerentola, ossia la bontà in trionfo, riesce ad andare in scena il 25 gennaio del 17. È veramente un record. Non è passato un anno dal barbiere e l'opera è stata praticamente messa assieme in meno di un mese. Una cosa veramente incredibile. ottiene un buon successo destinato poi naturalmente a crescere in futuro. Non fu un fiasco, ecco, come il barbiere. Qui vedete Ferretti, il librettista, rappresentato in maniera neoclassica, con la classica camicia aperta come Ugo Foscolo, insomma. Sono tutte foscoliane queste raffigurazioni qui. Sembrano tutte il poeta. Qui vedete la famosa raffigurazione di Rossini nel 17, che all'inizio del lavoro non avevo a disposizione. Questo è Rossini intermedio tra le due facce invece che abbiamo visto all'inizio, 1817. Il teatro in cui Cenerentola va in scena è il Valle di Roma. Un teatro molto antico costruito nella prima metà del settecento con una struttura a campana, quindi più stretto dei teatri come la Scala o il San Carlo. Venne poi nel 18, venne poi ristrutturato, qui fecero una struttura muraria e come tale ospitò una serie di opere di Donizetti, cinque prime di opere di Donizetti, sempre sul libretto di Ferretti. Ha avuto una storia anche recente, il Valle, perché l'ente teatral italiano l'ha dismesso qualche anno fa, ma per impedire la demolizione, riconversione, trasformazione in un magazzino o supermercato, come era accaduto al San Moisés alla fine dell'Ottocento, un gruppo di attori e di cittadini occupò il Valle e lo tenne occupato finché non fu costituita una fondazione, una cooperativa che attualmente lo gestisce. Per cui l'unica foto che ho trovato del Valle è una foto di lotta, cioè di un'assemblea praticamente di tipo sindacale con gli occupanti all'interno di questa struttura. Questo comunque è il teatro di Donizetti, il soffitto è stato anche dipinto in un'epoca più recente. Gli interpreti di Cenerentola sono praticamente cinque cantanti principali e tre comprimari. Vedremo poi eventualmente la differenza. Di noti chi c'era? Beh, Giacomo Guglielmi, il tenore che fa la parte del principe Don Ramiro, era il figlio di Pietro Guglielmi che era un operista della generazione precedente a Rossini, di qualche nome. Caterina Rossi e Teresa Mariani non è dato sapere chi fossero, sono due comprimarie che interpretarono le sorelle la sera della prima. Zenobbio Vitarelli che interpretò la parte del filosofo Alidoro, cantando un'aria che è scritta da Agolini e non da Rossini la sera della prima, era il Don Basilio del barbiere di Siviglia dell'anno precedente, quindi era noto a Rossini. Per quello che riguarda invece Dandini, Don Magnifico e Angelina, che è il nome che ha il personaggio di Celerentola, si tratta di figure conosciute. Celtrude e Righetti Giorgi aveva già cantato Rosina nel barbiere. Esattamente, faceva parte del cast del barbiere, come Vitarelli. Viceversa, De Begnis e Verni avevano cantato nell'opera di Pavese alla Scala, nel 1814, interpretando le stesse parti che interpretarono tre anni dopo in Celerentola. Rispettivamente Don Magnifico e Dandini, cioè i due buffi della vicenda. Qui vedete L'Arietti Giorgi, un po' in carne, come usava all'epoca, e qui vedete De Begnis, un po' scombiccherato, che fu il primo Dandini della storia. La differenza tra cantanti comprimari e principali era data dal non essere grandi cantanti o meno, per cui i grandi ruoli, i più difficili, venivano confezionati per i cantanti principali, i più facili venivano confezionati per i comprimari. Interessante il caso di Alidoro. Alidoro, nella prima versione, è un cantante decisamente comprimario e Rossini non perde neppure tempo a scrivere un'aria per lui. La fa scrivere dal suo Negro, cioè da Golini. Ma quando Celerentola viene ripresa in un altro teatro, nel 2021, all'Apollo, e c'è un grande cantante scritturato per Alidoro, Gioacchino Moncada, allora Rossini decide di scrivere ex novo una nuova aria per Alidoro, lui, la scrive lui praticamente. E quest'aria, là del Celle, nell'arcano profondo, sostituirà di fatto poi l'aria precedente, soprattutto dopo l'avvento della filologia esecutiva, cioè negli ultimi anni del secolo scorso, non è più pensabile di fare la Cenerentola con l'aria di Agolini per il semplice fatto che è andata in scena con l'aria di Agolini la prima volta. Quella sarebbe un eccesso, diciamo, di filologia. La fortuna dell'opera. Beh, Cenerentola ha un buon successo iniziale, poi col barbiere e Guillaume Tell diventa, nell'Ottocento, l'opera più popolare di Rossini grazie alle due maggiori contralto dell'epoca, Rosmunda Pisaroni e, più tardi, Marietta Alboni. La Pisaroni fu una vittima del vaiolo nel XVI, veniva completamente sfigurata in faccia, per cui dal XVI, che era ancora molto giovane, ha tutta la carriera davanti, prese l'usanza di cantare lontano dal proscegno, sempre abbastanza nell'ombra, nella penombra, o addirittura esibendosi in maschera, veramente inquietante, come un personaggio di film dell'orrore e andava in scena con una maschera di cuoio che copriva tutto il volto sfigurato, scusate, dal vaiolo. L'Alboni è l'ultima grande cantante di agilità, il canto dell'Ottocento. Quando visse abbastanza, vedete che le sue date sono date verdiane praticamente, muore l'anno dopo il Falstaff, nel 1894, la musica è cambiata, l'opera è cambiata, ma rimase sempre fedele al teatro di Rossini, non vuole mai cantare Verdi con quelle voci tirate, quegli acuti terribili che sfiancavano la voce e niente agilità. Qui vedete la Pisaroni, credo, non so se prima del vaiolo, oppure se si tratta di Gleymore, cioè di un ritratto rifatto. E qui vedete l'Alboni, che era un personaggio piuttosto in carne. La sua simpatia per Verdi, devo dirvi, era completamente ricambiata. In epoca moderna, la Callas, negli anni 50, ebbe il grande merito di far rinascere l'interesse per questo repertorio di bel canto. E poi ci fu, fondamentale, il varo dell'edizione critica di Rossini a cura della Fondazione Rossini di Pesaro, con una potente equip di musicologi, Zedda, Cagli, Gosset, che hanno praticamente messo mano a questa monumentale iniziativa dell'edizione critica di tutte le opere rossiniane. Cenerentola è una delle prime opere ad essere sistemata criticamente. Nel 1972 a Bado ne trarrà da questa edizione critica una famosa registrazione discografica con Teresa Berganza, mezzo soprano spagnolo, nella parte della protagonista. Poi lo spettacolo verrà portato alla Scala con una regia già collaudata di Ponella sul Cenerentola. Per farne un grande spettacolo anche visivo a questo punto, all'ultimo momento la Berganza non potrà cantare, sarà sostituita da Lucia Valentini Terrani, che è stata la più grande Cenerentola italiana, praticamente. Qui vedete anche le due, la Berganza, le due interpreti moderne di Cenerentola e la Valentini Terrani. E andiamo al libretto. Dalla fiaba all'opera, perché Cenerentola è una storia vecchia, conosciuta in molte tradizioni, conosciuta nell'Egitto faraonico, conosciuta nella Cina medievale, e poi diventa letteratura scritta nel 1600 in Italia e in Francia. Qui abbiamo tutte le versioni, anche qui vedete c'erano tutta una serie di contenuti di queste varie versioni della favola, ma non c'è tempo per farlo. C'è la favola di Rodopi, Egitto antico, praticamente Cenerentola è una schiava, non c'è la matrigna, non ci sono le sorellastre, la quale è adorata dal suo padrone, per cui suscita l'invidia non delle sorelle, ma delle altre schiave, delle altre concubine praticamente. Lui le regala delle pantofole molto lussuose, e a un certo punto lei le lava, le mette ad asciugare, ma arriva il dio Sorus, il dio Falco e gliela ruba. E poi, durante una festa nella corte del faraone, lascia cadere, dove lei non va, ma non va neanche nessuna, neanche le altre ci vanno, lascia cadere questa pantofola in grembo al faraone che dice, ma di chi sarà questa pantofola? Mi punge vaghezza di partire alla ricerca della fanciulla, e allora viene ritrovata Rodopi, a cui la pantofola va benissimo, e il faraone decide di sposarla. Nella favola di Yeshan, del IX secolo d.C. in Cina, Cenerentola, anzi, pardon, non Cenerentola, Yeshan, ha una matrigna e una sorellastra. La madre è morta, ma si è incarnata in un pesce dello stagno che è l'unico amico che la ragazza abbia. La matrigna non trova niente di meglio da farlo che mangiarglielo. E poi succede una serie di altre cose. La madre dice a Yeshan di prendere le lische del pesce mangiato e di metterli in appositi vasi rituali che serviranno. Quando c'è la festa della primavera e la sorellastra con la madre vanno a questa festa, lei deve restare Yeshan, deve restare in casa a fare le pulizie, e lei va a vedere in questi vasetti e ci trova meravigliosi vestiti e delle bellissime scarpine. E allora va alla festa, vestita benissimo, grazie a questi vestiti magici, si mette queste scarpine ma poi ha paura, non c'è nessuno a mezzanotte da rispettare, ha paura che possa essere scoperta dalla madre eccetera, per cui fugge rovinosamente lasciando una di queste scarpine. La cosa interessante è che il re, in questo caso il re non il principe, non è presente alla festa, ma gli portano questa scarpina minuscola, piccolissima, sapete che in Cina c'era il culto del piede piccolo per le donne, per cui dice ma chi sarà mai questa creatura straordinaria che indossa questa scarpina? Proviamo a cercarla, la cerca e la trova naturalmente, è Yeshan che finirà per sposare il re, e questa volta la matrigna cattiva e la sorellastra, una sola, saranno punite e moriranno praticamente, questo il finale qui è tragico. Poi nel Seicento c'è l'Occunto degli Cunti di Basile con la favola di Zezzolla, ossia la gatta Cenerentola. Qui non vi sto a raccontare perché è ancora più complicata, è una storia barocca che più complicata non si può. Rimane il fatto praticamente che il nome Cenerentola, che ha a che vedere con la cenere, viene fuori per la prima volta in questa fiaba di Basile. E poi abbiamo ovviamente la Cendrion di Perrault nelle Conte di Mammerlois, successiva di circa mezzo secolo, insomma, rispetto a quella di Basile, e la storia è quella che conosciamo. L'unica diversità in Perrault è che Cenerentola va due volte al ballo, torna anche la sera dopo e riprende il discorso della sera precedente, mentre normalmente questo particolare viene riassunto, non c'è più. Qui si fa praticamente la storia di quello che vi ho raccontato. In Perrault tutto è molto più preciso. Intanto gli eccessi di Basile sono ridotti. Cenerentola deve scappare dal ballo perché c'è un incantesimo a scadenza, e quindi scade a mezzanotte e quindi deve andare. E soprattutto nel finale della fiaba Cenerentola continua a porgere l'altra guancia, quindi ha un comportamento cristianamente ineccepibile, e perdona le sorelle. La matrigna non ha quasi importanza nel Sendrion di Perrault. Perdona le sorelle e addirittura le fa sposare a corte, le fa sposare con due gentili uomini di corte, praticamente un lieto fine su tutta la falsa riga. Era importante questo lieto fine così moralmente edificante perché è la situazione in cui partono poi le opere sul Cenerentola, che dovendo passare il vaglio della censura dovevano per forza essere moralmente ineccepibili. C'era stato un tentativo nell'Opera Comiche settecentesca, però io non sono documentato e non voglio dirvi delle cose che non hanno fondamento. Il primo tentativo documentato famoso è l'Opera Féry, cioè l'Opera fiabesca Sendrion di Nicolas Isouard, che viene scritto sul libretto di Charles Guillaume Etienne, un famoso politico e giornalista e scrittore francese dell'epoca. Va in scena nel 1810, quindi in epoca napoleonica. È uno spettacolo di canto e di parlato, come sempre l'Opera Comiche. Siamo in epoca di razionalismo assoluto per cui la magia non c'è quasi per nulla. La funzione della comare fata, della madrina o quello che volete voi, è sostituita dal precettore del principe, il quale appunto è il deus ex machina che fa capitare tutte le cose come devono capitare. La cosa interessante è che Sendrion fissa una serie di punti fermi che ritroviamo in Cenerentola. Non c'è una matrigna perché le figure femminili anziane non venivano esibite all'Opera, cioè proprio non esisteva il concetto che l'Opera parlasse di donne anziane, sempre giovani e piacenti. Per cui la funzione della matrigna è svolta da un patrigno. Ci sono le due sorelle naturalmente e Cenerentola non ha un altro nome, si chiama semplicemente Cenerentola, cioè Sendrion. La cosa anche interessante è che siamo all'Opera Comiche, quindi il trionfo dell'esotismo di storie ambientate in paesi lontani che piaceva molto ai francesi e ai parigini vedere in quel periodo, per cui l'Opera viene ambientata in Italia, nel circondario di Roma, nel Viterbese, e questa era una cosa che piaceva molto ai francesi perché all'Italia faceva molto esotismo naturalmente. qui vedete Isoard, qui vedete Etienne, il librettista, e qui vedete, non abbiamo parlato, l'Alessandrine Santorenne che è la prima Sendrion praticamente. Devo dire che non ha propriamente addosso un abito di lavoro, come potete vedere, ma questa è ovviamente una stampa glamour, cioè fatta apposta per essere poi diffusa all'interno del libretto. e arriva anche in Italia la nostra Cenerentola. Praticamente nel 1814, su un libretto del tenore Francesco Fiorini, Stefano Pavesi, amico di Rossini, scrive La Gatina compone La Gatina o La Virtù Premiata. E' interessante che Cenerentola debba avere un nome in Italia, non viene mai citata come Cenerentola, quindi perde ulteriori connotazioni magiche e diventa una ragazza, una ragazza come tante. La Virtù Premiata, cioè il sottotitolo, è anche interessante perché significa che la storia ha e vuole avere un significato morale e questo serve per attenuare l'effetto della censura, per imbonirsi i censori praticamente. La cosa interessante è che non è un'opera comic, non potrebbe essere un'opera comic francese, ma è un'opera semiseria, che vuol dire che ci trovano posto dei personaggi buffi. Il personaggio di Don Magnifico e il personaggio di Dandini, interpretati dagli stessi cantanti che poi canteranno Cenerentola, sono già personaggi buffi. Quindi è Pavesi che apre al buffo all'interno della storia di Cenerentola, secondo la tradizione italiana. Pavesi lo vedete in questa raffigurazione qua. Rossini conosce Pavesi, aveva già avuto in dono da lui alcuni libretti, il Tancredi, altri ne avrebbe avuti in futuro, l'Elisabetta, siamo nel 1814, Rossini non è ancora a Napoli, e quindi è molto probabile che anche la gattina di Pavesi sia finita come libretto in tasca a Rossini. Per cui quando Rossini andò al famoso meeting in cui Ferretti gli propose 20 opere e più come scelte possibili, Rossini si animò al nome magico Sendrion perché aveva già il libretto pronto, non che usasse lo stesso, ma avrebbe dato il libretto a Ferretti e gli avrebbe detto vedi cosa puoi fare in 15 giorni, in 20 giorni a partire da questa traccia qua. Anche da Ponta aveva scritto il Don Giovanni sul libretto di Bertati per Cazzaniga, cioè l'aveva proprio preso così, si facevano queste cose. E' probabile che questo sia il motivo, anche che ha facilitato Cenerentola nella sua rapidità. Il librettista ha un atteggiamento che ho definito ondivago, non si capisce bene cosa pensa di questo suo libretto. All'inizio è entusiasta dell'idea di musicare Cenerentola, poi però antepone al libretto una famosa prefazione indirizzata agli colleghi librettisti e agli esperti che vengono apostrofati con il termine cortesi fratelli drammatici. Mette avanti le mani, insomma. E perché mette avanti le mani? Qui bisognerebbe citarlo, ma queste sono proprio citazioni delle parole stesse, non tutte, come vedete, di Ferretti. Giustifica il fatto che la magia è stata espunta e che la pantofola non è stata mantenuta, ma sostituita con un braccialetto, uno sbaniglio, perché si trattava di rispettare la delicatezza del gusto romano che non soffre sul palcoscenico, non sopporta, non soffre sul palcoscenico ciò che lo diverte in una storiella accanto al fuoco. E come dire, ho dovuto rendere razionale la favola di Cenerentola, però adesso che l'ho resa razionale non lo so se funziona poi così tanto bene. Infatti ci sono problemi dal punto di vista drammaturgico, li vedremo. E dopo la prima vede tutto nero Ferretti, parla di naufragio, quando invece le cronache dei giornali dicono che fu un discreto successo, soprattutto dal punto di vista di Rossini e degli interpreti, forse per quello che Ferretti è rimasto male. Poi se la prende con un giornalista francese che gli aveva rinfacciato il fatto dell'osmaniglio al posto della pantofola, perché non era filologico, non era per Ro, e aggiunge sui teatri di Roma non si permettono i movimenti delle persone come sulle scene di Francia e più sopra c'era il rischio, mantenendo la pantofola, di offendere la decenza con l'uso della pianella. La pantofola avrebbe significato che la cantante doveva mettere fuori la caviglia sotto la veste e farla vedere in un teatro del papa, questo non si poteva fare. E allora ecco che le braccia si potevano scoprire di più, ecco che la pantofola viene sostituita dallo smaniglio. Però in realtà non è semplicemente un aggeggio d'abbigliamento al posto dell'altro, perché in realtà non è che Cenerentola nell'opera di Rossini perda lo smaniglio e poi uno deve andare in giro a cercare qual è la fanciulla che ha perso lo smaniglio. Lo smaniglio, sappiamo, si può adattare a un sacco di polsi, insomma, quindi sarebbe un grosso problema. E Cenerentola stessa nel libretto che dà lo smaniglio al principe e dice tu cerca la ragazza che avrà uno smaniglio uguale a questo nell'altro braccio e a quel punto saprai che sono io, però dovrei accettarmi per quello che sono, qualunque cosa io sia, anche se sono una poveretta che spazza la cenere vicino al fuoco. Costumi di Cenerentola, li passiamo rapidamente, perché il problema di rappresentare la magia, un racconto magico, all'epoca esiste. Vedete che razza di bozzetti incredibili, a parte che sono tutti uguali, quello leggermente colorato ed un magnifico. Come potessero fare un allestimento in cui tutti i costumi sono uguali così? Non si sa. Tra l'altro hanno tutti questi passamani, questi fiocchi, e questo dovrebbe essere l'elemento magico che si discosta dall'abbigliamento di tutti i giorni. Anche un generico costume settecentesco, seicentesco, eccetera, che dovrebbe ricreare il clima della fiaba. C'è un problema obiettivo a rappresentare una fiaba in quest'epoca. Un po' di anatomia, qui affrontiamo il problema del libretto. Questa era tutta la storia del libretto, ma la sorvogliamo. Mi soffermo un attimo su questa famosa decorazione, ovviamente, di Gustave Doré, che dopo aver illustrato tutto, illustrò anche la Cendrion di Perrault nella scena culminante, cioè la scena alla fine del primo atto, cioè la scena del ballo, naturalmente. Poi c'è anche il libretto del secondo atto. Questo lo do per scontato. Non ci raccontiamo, insomma, che cosa succede nel libretto di Cenerentola. Il problema è qui, cioè il libretto fu sicuramente un successo, ma Ferretti, con il metro dell'epoca, ricavò l'impressione che fosse un problema di linguaggio. Siccome aveva usato parole un po' strane, un po' strampalate, anche un po' volgarotte, mettendoli in bocca a Don Magnifico e in bocca a Dandini, Ferretti venne accusato dai letterati di Roma che, insomma, non aveva saputo usare un linguaggio abbastanza aulico. E infatti, in una successiva versione di Cenerentola, della ripresa dell'anno successivo, cercò di fornire un libretto più forbito, con il risultato di smarrire quello che è l'aspetto forse più interessante del libretto di Cenerentola, cioè l'invenzione verbale che passando alla Cenerentola 2 non c'è più. Cerchiamo di capire perché il libretto di Cenerentola poteva essere criticabile, non certo per ragioni linguistiche. Quello che vedete è la struttura della narrazione letteraria e anche la struttura di un libretto d'opera, secondo la teoria di quei tre signori lassù, Propp, Grimasse e Lavagetto. Oggi molto usata in librettistica e in libretologia per capire come funziona una storia e come ne funziona un'altra. Cioè in ogni storia c'è un soggetto dell'azione, che è quasi sempre un personaggio solo, che tende verso un oggetto che spesso e volentieri è un'altra persona, per esempio una donna che il soggetto vuole conquistare. Ma può anche essere un oggetto astratto. Ma Ahmed vuole conquistare il regno di Scozia, non vuole conquistare niente dal punto di vista sentimentale, ma il regno di Scozia. L'oggetto non è libero di fare, altrimenti accederebbe subito alla corte e finirebbe lì. Ma è in un regime, come si dice, di destinazione. C'è una persona che ha in mano i fili del suo destino e naturalmente ha deciso di darla a un destinatario che non è il nostro soggetto. Sarebbe troppo semplice se fosse il nostro soggetto. E anche il nostro soggetto non è tanto libero di agire, perché ha un oppositore come elemento drammatico. Poi questo oppositore possono essere anche 3, 4, 5, 10 persone. Comunque c'è questa funzione di oppositore che si oppone all'azione del nostro soggetto. E per compensare quest'azione il nostro soggetto conta anche su un certo numero di aiutanti. Generalmente la storia si risolve, dal punto di vista strutturale, nel bene o nel male, secondo che prevalga l'opposizione o l'aiuto nei confronti del nostro soggetto. Intanto vediamo i tre personaggi che ho citato. Il grande formalista russo, Prop, che faceva il formalista in epoca in cui era molto duro fare i formalistici nell'epoca di Stalin. Gray Mass, che è un linguista lituano che scappò dalla Lituania quando Stalin invase i paesi baltici nel 1940, divenne francese, naturalizzato francese, uno dei fondatori della semiologia moderna. E il nostro Mario Lavaggetto, vivente, a cui si deve praticamente la librettologia, per come noi la conosciamo, cioè l'adozione di questi schemi ai libretti d'opera. E qui vediamo, purtroppo sono in giallo, leggo io se non potete leggere, le funzioni con il personaggio che effettivamente le ricopre nella fiaba della Cenerentola. Sicuramente il principe Don Ramiro vorrebbe sposare Angelina, cioè Cenerentola. Vorrebbe sposare quella persona lì in tutte le trasformazioni che ha davanti. Cenerentola però non è libera, almeno all'inizio dell'opera, di accoglierlo, perché Don Magnifico, Clorinda e Tisbe hanno deciso che debba continuare ad essere Cenerentola. Cioè l'hanno destinata alla stessa situazione di partenza e non possono ammettere che questa situazione cambi. A livello di opposizione ed aiutante, naturalmente Don Magnifico e le sorelle sono di fatto anche, e sono le lastre, oppositori, oppositrici al disegno matrimoniale del principe per Cenerentola. Ma in questo senso il principe è aiutato in maniera diversa e in momenti diversi da Alidoro e da Dandini. Alidoro a un certo punto però prende decisamente il sopravvento già all'inizio dell'opera, quasi all'inizio dell'opera, alla fine del primo atto è lui il grande cerimoniere. Ha già deciso tutto, muove tutto quanto. Qui c'è lo schema del secondo atto e vedete che come destinatore di Cenerentola Alidoro si è sostituito di fatto a Don Magnifico perché è chiaro a quel punto che è lui che regge le file del destino e questo ha destinato Cenerentola non più a se stesso ma naturalmente al principe. Per cui il principe vince naturalmente. Vince perché c'è questa opposizione del solito Don Magnifico e dell'altro che è sempre più debole. Tra l'altro sono vittime del travestimento e non capiscono più niente quest'ora. Che razza di oppositori sono? Non sono in grado di imbastire una vera opposizione all'azione del principe. E poi soprattutto che opposizione posso imbastire se quello è un principe e io sono solo un barone? Questo è anche il discorso. Praticamente che cosa succede quindi? Succede che la drammaturgia di Cenerentola è abbastanza scontata perché sin dall'inizio noi sappiamo come va a finire la storia a livello di libretto. Non a livello di musica, eh. La musica è un altro discorso. A livello di libretto lo sappiamo già. Non è interessante sapere cosa andrà a capitare perché ce lo aspettiamo. non è come il barbiere. Il barbiere è una storia realistica dove possono succedere delle cose, anche il loro contrario, appassiona fino alla fine. Cenerentola è più scontata perché c'è questo alidoro che praticamente è come se fosse il dio dalla macchina, il deus ex machina della tragedia antica che anziché comparire 5 minuti prima della soluzione compare già all'inizio dell'opera. Allora, se il deus ex machina compare già all'inizio dell'opera indubbiamente la storia drammaturgicamente non è così interessante, naturalmente. E anche questi travestimenti, Alidoro nel mendicante, il principe in Dandini e Dandini nel principe, Cenerentola che diventa la dama velata, dovrebbero essere trattati diversamente nella storia, ma non è possibile naturalmente perché la storia è questa che è. Nel senso che i travestimenti sono piccanti, funzionano se possono essere scoperti. Se c'è qualcuno che potrebbe sgamare, invece Don Magnifico ha un dubbio per un attimo, le sorelle hanno un dubbio, ma poi tutto rientra, insomma. In realtà nessuno può sbugiardare questi travestimenti, quindi interessano anche poco come travestimenti, ovviamente. Il problema qual è sostanzialmente? Il problema è che Cenerentola è un racconto letterario che è fatto per essere letto, non per essere rappresentato. Per potersi rappresentare con un interesse drammatico continuo nel testo, non nella musica, continuo a parlare solo del testo, bisognerebbe che questa storia venisse cambiata radicalmente, cosa che non è possibile naturalmente fare. Infatti Ferretti ne è perfettamente coscio perché tutti i suoi dubbi derivano da questo, anche se non ha studiato la teoria di Grimas, Ferretti, perché ha vissuto cento anni prima, ma comunque ha bene in chiaro quali sono i punti deboli del libretto, solo che siccome gli hanno criticato il linguaggio cerca di adeguare il linguaggio perché non può certo rifare la storia, naturalmente. E qui abbiamo un esempio, per esempio, del linguaggio di Cenerentola che è molto interessante ma che lo stesso librettista cercherà di emendare, ritenendo ingiustamente che sia questo che ha portato all'insuccesso di Cenerentola, secondo lui, naturalmente, poi la musica ha avuto successo, il cantante ha avuto successo. Guardate, per esempio, questa serie di espressioni usate nel libretto e che cosa realmente significano. Don Magnifico, miei rampolli femminini, che vuol dire figli miei però di sesso femminile. femminili. E poi ancora, sempre Don Magnifico, fra il fosco e il chiaro, per dire sul fare dell'alba, insomma alle prime luci dell'alba. Alla favella è venuto il sequestro, questo è un recitativo, per dire semplicemente ho perso la parola. Oppure parlate in punta e virgola, nel senso di parlate forbito. O ancora, quando entra Zandini, tra i quondam e capiton volato, nel senso di è caduto bell'è morto, eccetera, eccetera, eccetera. E' eloquenza norcina, i norcini sono i macellai che disossavano la carne, la carne di maiale, se ricordo bene. Per dire che eloquenza norcina, che parole taglienti, taglienti come il coltello di un macellaio. E' un'invenzione verbale continua ed è la cosa più interessante del libretto, del contributo diciamo di Ferretti, non quello di Rossini, è un altro discorso. Però lui si convinse che il libretto non andava e che quindi bisognava in qualche maniera. Per cui, che sentenza dobbiamo dare del libretto? Beh, qui bisogna allargare il discorso della musica. Quando noi ascoltiamo Cenerentola, non ci limitiamo a leggere il libretto, l'effetto che ci fa è molto diverso da quello che io ho cercato, insomma, di riportarvi. E' una drammaturgia fatta di tensioni, di distensioni, di momenti di concentrazione drammatica, ma questi momenti sono tenuti con la musica essenzialmente, più che con la situazione scenica. Quindi la drammaturgia è veramente uno scoop di Rossini, insomma, da questo punto di vista. Rossini coglie l'occasione proprio dal fatto che Cenerentola non è un'opera realistica, che non parla di personaggi veri, ma parla di personaggi da favola, non credibili, che non hanno uno spessore psicologico, per realizzare al massimo il suo disegno di teatro. In questo senso Cenerentola è più rossiniana del barbiere. C'è un teatro in cui praticamente la musica scandisce tutto, dall'inizio alla fine, tutti i momenti principali, e ciò che si vuole rappresentare è soprattutto la frenesia, la folle frenesia di questi personaggi che sembrano in preda agli avvenimenti, e quindi in preda alla musica, che modifica le parole, modifica il modo di pronunciarle. E' un tipo di drammaturgia che, se fosse stata in presenza di una storia realistica con i personaggi in carne ed ossa, come era il barbiere, avrebbe avuto problemi, più problemi. Ma così Rossini ha carta bianca, perché è libero di creare la sua propria drammaturgia musicale di Cenerentola e applicare le sue idee di teatro musicale proprio perché la storia è debole da questo punto di vista. Ci capiamo. E quindi, praticamente, cosa dobbiamo dire? Che Ferretti è un fallimento? No! Perché l'esperienza dimostra che se la musica può penetrare bene un libretto in qualunque epoca, eccetera, è perché il libretto comunque è ben costruito per questo. Quindi il libretto di Ferretti è emendabile, discutibile per certi aspetti, ma è sicuramente molto funzionale all'intervento musicale che Rossini ha in mente di applicare. Per cui, alla fine, vedete, me la cavo con un salomonico verdetto di assoluzione. Assolviamo Ferretti da questo punto di vista. E dopo Ferretti e Rossini che succede a Cenerentola? Beh, succede che c'è una cendrion di Masné all'Opera Comica alla fine dell'Ottocento, che c'è la Cenerentola e il balletto di Prokofiev nel 1945 e la famosa Gatta Cenerentola di Roberto De Simone, tratta da Basile, un'opera mista di parti recitate e parti cantate, tutte in dialetto napoletano, con musica colta, antica e musica popolare arrangiata, curata e rimessa a posto appunto da De Simone, che è un musicologo particolarmente esperto in queste cose. L'esito più famoso al cinema è quello del cartone di Walt Disney del 1950, che probabilmente è ritenuto dalla critica il migliore cartone classico di Walt Disney. Qui vedete Masné, qui vedete l'Opera Comique nella versione ultima, cioè la versione di fine ottocento, quando Masné vi rappresenta Cendrion, qui vedete Prokofiev nel 1945, l'anno del balletto, qui vedete un'accelerentola che oltre a spazzare è anche balla, De Simone e questa è una fotografia scenica di una rappresentazione della gatta Cenerentola con il grande Peppe Barra, un travestì che interpreta la parte della matrigna. Siamo negli anni 70. Walt Disney, in una fotografia un po' precedente a Cenerentola, un po' prima del 1950, un fotogramma del film che fece sensazione, perché come vedete Cenerentola è molto maliziosa, la rappresentazione di Cenerentola, non è la classica eroina acqua e sapone come Biancaneve, venne un po' dipinta come una teenager americana dell'epoca, vestita un po' con la coda di cavallo, vedete le ballerine nei piedi, eccetera. E allora i ben pensanti dissero che era un po' troppo conturbante per essere un cartone animato per famiglia e Cenerentola venne attaccato per questo motivo, però è un grande cartone classico dove oltretutto, visto che in Perro ci sono anche tutti gli animali, c'è anche una bella realizzazione cartonistica degli animali. Un appendice fiaba e autoritarismo, nel 17 sicuramente l'avere scelto una fiaba e avergli dato una connotazione morale, la virtù premiata, servì per tacitare i censori. In generale l'argomento fantastico fiabesco è sempre stato usato sotto i regimi autoritari per riuscire a rappresentare qualche cosa che altrimenti non sarebbe stata permessa. E questo è ovvio naturalmente. Ci sono due casi che voglio citarvi, di diversa caratura ovviamente, sono due estremi. È il caso di Rimsky-Korsakov di cui ben sette delle quattordici opere per teatro che Rimsky-Korsakov compose sono di fatto delle fiabe, c'era il regime zarista all'epoca, ma questo non riuscì comunque a evitargli la condanna perché Rimsky fu accusato ed ebbe lo stracismo, perse anche in seguito alla rivoluzione del 1905, ovviamente perse anche tutti gli incarichi di lavoro che aveva eccetera perché si disse che il Gallo d'Oro nel 1907, la sua ultima opera, conteneva una satira dello zar e dei suoi cortigiani. Su un piano più semplice, in Italia, durante il regime fascista, il compositore Luigi Ferrari Trecate, un compositore di Alessandria, anche organista, scrisse ben cinque opere di argomento fiabesco e il compositore italiano che ha dedicato più opere al teatro musicale per l'infanzia, in assoluto. La sua opera più famosa la leggetta in basso è Ciotolino, 22, che venne anche allestita dal teatro Regio in collaborazione col Conservatorio qualche anno fa. È un'opera interessante, si può fare oggi, si può rifare. La parte musicale è, diciamo così, un po' la lettura che è già stata data, cioè praticamente Rossini attua la drammaturgia in assenza, diciamo, in latitanza del libretto che è carente da questo punto di vista, attua uno suo proprio disegno drammaturgico. Naturalmente c'è tutta una serie di prestiti, la sinfonia proviene dalla Gazzetta, il rondò finale di Cenerentola non più messo accanto al fuoco si era già sentito nel barbiere di Siviglia prima del finalino, però in bocca al conte d'Armaviva, quindi per tenore, ha il più lieto, il più felice, però siccome il pubblico di Roma non si accorge di questo prestito del barbiere è probabile che questo sia dovuto al fatto che ha il più lieto e il più felice non venne eseguito la sera della prima del barbiere, mai, soltanto in una ripresa successiva, successiva magari anche a Cenerentola, lontano da Roma, tagliamo corto. A quanto ai subappalti, naturalmente ci sono tre pezzi di Agolini, l'aria di Alidoro originale, il coro dei cavalieri all'inizio del primo atto, l'aria di Clorinda, che vengono tagliati e il terzo vengono proprio tagliati, oggi non si fanno praticamente più, il primo viene sostituito dalla grande aria, la del Celle, scritta per il basso Moncada per la ripresa del 1820-21, questo l'abbiamo già visto. Questo è il nuovo teatro dove avviene questa ripresa, il teatro Apollo, dove avvennero anche le prime del trovatore e del ballo in maschera, è un teatro che è stato ricostruito ben tre volte nella storia, addirittura la prima volta l'ho costruito all'inizio del Seicento, e poi ancora nel Settecento, perché un papa l'aveva fatto buttar giù, un papa che odiava il teatro, e poi bruciò alla fine del Settecento, terza e definitiva costruzione nell'Ottocento, ci fanno questa ripresa di Cenerentola, ci fanno il trovatore, ci fanno il ballo in maschera, ma poi viene distrutto di nuovo il teatro, questa volta deve essere buttato giù dalle autorità, perché lo capite da questa immagine, quello è il Tevere e quello è il teatro, è costruito sull'argine del Tevere, praticamente appena c'è un'inondazione abbiamo l'acqua del foyer, la prima del trovatore avvenne in circostanze analoghe, cioè sotto inondazione praticamente, per cui il nuovo governo della Roma Unitaria, l'italiana, decide di abbattere tutto per costruire degli argini del fiume come Dio comanda, insomma ed evitare le inondazioni. Appunti sulla partitura, qui abbiamo il contenuto diciamo della partitura, primo e secondo atto, vedete che sono all'incirca equivalenti come numero delle forme, ma se voi ascoltate Cenerentola vi accorgete che il primo atto è sensibilmente più lungo del secondo. Perché è sensibilmente più lungo? Intanto perché due pezzi del secondo, l'introduzione di Agolini e poi il recitativo e aria di Tisbe, il numero 15, sono stati eliminati. E poi perché l'aria di Alidoro del primo atto non c'è più quella piccola fatta da Agolini ed è stata sostituita da quella poderosa fatta da Rossini per la ripresa del 2021. Tutto questo ha fatto sì che adesso Cenerentola abbia un primo atto molto più lungo del secondo, il che non è un male dal punto di vista drammaturgico perché la tensione della scena del ballo, del scoprimento che poi non è uno scoprimento di Cenerentola con il famoso concertato e poi la famosa stretta con la musica che viene ripresa dalla sinfonia, viene spostata questa tensione più avanti il che è drammaturgicamente sicuramente più corretto. E questa è la spiegazione che vi ho dato. Oltretutto un fatto particolare è che a Cenerentola si rivela un'opera buffa perché anche nelle sue situazioni solistiche i cantanti non sono mai soli a cantare ma hanno sempre qualcuno che li ascolta, qualche personaggio che li presente. Per cui non c'è mai la tipica situazione romantica, da melodramma romantico, del cantante solo in scena che si dispera, queste cose, o meglio c'è. L'unica aria, è una ripresa tra l'altro, che risponde a questi requisiti è la canzone di Cenerentola nel finale, prima del temporale, che tra l'altro è musica sulla musica perché è veramente una canzone, cioè non è la musica dell'opera. Ogni tanto Cenerentola canticchiava e quindi canticchia questa canzone qui, ma gli altri la sentono come fosse una canzone, non come se fosse un'aria d'opera. Lì è veramente da sola e tra l'altro Rossini aveva già, facciamo magari soltanto questa visione qua, aveva già usato quest'aria all'inizio dell'opera, l'ingresso della prima donna, l'aria, una volta c'era il re, mai visto una cosa del genere, che una cantante, anziché entrare e sparare una serie di gorgheggi incredibili, canti invece questa canzone sentimentale, nostalgica, tra l'altro appunto priva di tutti i virtuosismi canori che siamo soliti attribuire a Rossini. L'importante è appunto ricordare questo, che il dramma di Cenerentola, non dramma nel senso della tragedia, ma l'interesse, diciamo, scenico, drammatico, in gran parte nella musica di Rossini, più che nel libretto di Ferretti, il quale non ha scritto un brutto libretto, ci mancherebbe altro. L'invenzione verbale è divertente, divertentissima, e poi con i sottotitoli si capisce tutto molto bene. Ma proprio l'astrazione di questa storia consente a Rossini di giocare nel suo elemento, praticamente, di scrivere una musica molto astratta, poco sentimentale, molto astratta, che è esattamente la cosa che ci vuole, insomma, per un testo del genere. Quindi potremmo dire, non che Cenerentola sia meglio del barbiere, ci mancherebbe altro, ma sicuramente più rossignana del barbiere, perché in qualche maniera l'estetica di Rossini si realizza di più in Cenerentola che non nell'opera dell'anno precedente. C'è, per esempio, c'era un esempio, c'è per esempio continuamente degli esempi di come Rossini usi le parole, poi messi in musica, per creare più che altro dei gangli, degli effetti fonetici, in cui si perde il significato originario e si sentono soprattutto tutti i suoni, insomma, delle parole. E' un teatro assolutamente suo, estremamente affascinante da questo punto di vista. Nel seguito della sua vicenda, Rossini non scriverà più opere buffe. E quando andrà in Francia, all'inizio degli anni venti, sarà già cinque anni che non scrive più opere buffe. C'è un episodio transitorio di una farsa scritta per un teatro portoghese, ma non fa testo praticamente. E' come se lui abbia finito di scrivere opere buffe con Cenerentola, perché Cenerentola è chiaramente il punto d'arrivo secondo lui. Praticamente meglio di così non si può fare. Quello è il motivo, forse, per cui non scrive più opere buffe, perché pensa di aver detto tutto quello che si poteva dire in questo ramo, cioè in questo campo. E da quel momento abbiamo il grande Rossini serio, delle ultime opere napoletane, italiane, Movimento II, La donna del lago, Fila Semiramide, e poi abbiamo Rossini francese naturalmente poi negli anni venti. Ma di opere buffe non si parla più. E' come se Rossini avesse esaurito il genere. Forse magari riteneva che l'opera buffa fosse un genere superato. In qualche maniera l'opera romantica era più importante e quindi lui fa, comunque con tutte le sue riserve, come sappiamo erano le norme, si rivolge più facilmente al genere tragico che non al genere buffo. Però Rossini dimostra l'esistenza, la possibilità di un teatro comico in pieno 800. E questo è un fatto fondamentale, perché sapete che l'800 poi non userà più tanto la categoria estetica del comico, perché la prevalenza del romanticismo tedesco orienterà tutto in un'altra direzione. e quindi Rossini diventerà il campione della musica passatista nell'800. Delle cose che non si fanno più, che non sono più attuali, perché adesso si deve parlare di altre cose. L'esacerbazione sentimentale, piuttosto che le leggende lacrime sangue. Il romanticismo è un'altra cosa ed è molto poco italiano. L'Italia sparisce un po' infatti da quando si impone in Europa la musica romantica. e Wagner praticamente è l'uomo nuovo, che porta il nuovo nel teatro in maniera completa, completa alla fine dell'800. Rossini rispetto a Wagner si incontrano tra l'altro a Parigi. Rossini e Wagner nella villa fuori Parigi di Rossini. E' un dialogo tra sordi, cioè praticamente Wagner dice le cose che si deve dire in questi casi, omaggia il vecchio maestro, ah il barbiere mi ricordo quando l'ho visto, ah qui, ah la, su e giù. Rossini risponde bonariamente come un vecchio zio che debba dare dei consigli, ma il discorso finisce sostanzialmente lì. Wagner è il compositore del futuro, ha scritto addirittura un'opera, che si intitola proprio l'opera d'arte del futuro, cioè come sarà l'opera d'arte del futuro, come me la immagino io. Diciamo che vent'anni fa, trent'anni fa, quando ho cominciato, anche quaranta, diciamo la verità, quando ho cominciato ad interessarmi di musicologia non avrei avuto dubbi, cioè Wagner e Rossini sono chiaramente il futuro e il passato della musica. però mi ricordo del nodo avviluppato, ecco, del finale della Cenerentra, adesso c'ho un nodo avviluppato anch'io, nel senso che non riesco più a capire bene se questa mia credenza, questa mia fede, diciamo, degli anni andati adesso io la rifarei mia. Ho le idee più confuse, nel senso che il futuro immediato è di Wagner, la musica di fine ottocento, inizio novecento, ma adesso, in una prospettiva più ampia, è passata ancora un altro secolo, la figura a tutto campo di Rossini, teatro comico, teatro serio, questa sua capacità di trattare i materiali con distacco, insomma, come nessun compositore neoclassico è veramente riuscito a fare nel ventesimo secolo, neppure Stravinsky, che era comunque sul versante serioso, le risate nelle opere di Stravinsky sono risate a denti stretti, non sono risate come nelle opere di Rossini, che ti vengono spontanee. Ebbene, adesso diciamo che ho un nodo avviluppato, anch'io, come personaggio del sestetto finale di Cenerentola, e avrei dei dubbi a dire che decisamente Rossini sia il compositore del passato passato e Wagner del futuro, sono cambiate tante cose e credo che anche questa gerarchia in qualche maniera possa essere ridiscussa. Grazie infinite. Ho chiesto troppo della vostra attenzione. Ringrazio anch'io, vi rubo solo due secondi per dire che in realtà poche settimane fa è uscita una biografia di Domenico Barbaia per i tipi delle DT, Domenico Barbaia il padrino del bel canto, bellissimo. Per cui è stato citato diverse volte, vale la pena ricordarlo. E il prossimo incontro con l'opera, che era previsto per il 13 aprile, per causa di forza maggiore, è stato posticipato al giorno dopo. Quindi l'incontro curato da Giorgio Pestelli sulla donna serpente non sarà mercoledì 13 ma giovedì 14. Grazie, a presto.